Sono pronto a mostrarvi cosa ho creato Eaf Perché si vede spaccato un secondo? Ma tu fai PS? Ok Eaf Oh no Batteria console così scarica Non si può biassuare la visuale Ma c'è scritto friends E finisce il gioco Vabbè Il video era breve Come un botto di video Perché volevo farvi vedere Il mio capolavoro Ciao ciao